Buongiorno, buongiorno a tutte e buongiorno a tutti carissimi e carissime amiche e amici. Stamattina andiamo a parlare ancora un attimo di Eshumirim. Eshumirim è questo spirito della Kimbanda, quindi anche della Macumba, amatissimo in Brasile. Eshumirim è uno spirito fanciullo, adolescente diciamo, uno spirito bambino che comanda a sua volta una falange di tante altre entità. Eshumirim è veramente potente perché può attuare in tutti i campi dell'esistenza, dall'amore alla fortuna, al lavoro, al denaro. È un Eshum molto particolare e in Brasile viene invocato molto frequentemente quando ci sono situazioni urgenti. In questo caso io volevo insegnarvi un lavoro che si fa quando c'è bisogno urgente di denaro, quando avete da pagare dei conti, quando c'è un debito, quando state cercando un impiego, un lavoro. Quindi quando in qualsiasi modo c'è bisogno di denaro, che arrivi da fonti magari che vi aspettate in qualche modo, ma arrivi anche da fonti magari che non vi aspettate. La cosa essenziale è non fare il lavoro se poi siete persone che non avete bisogno, perché altrimenti l'entità non vi risponderà. Eshumirim è lieto di aiutare chi è in difficoltà, ma vede anche la vostra situazione. Quindi fate questo lavoro, questa offerta rituale a Eshumirim, se avete urgenza di denaro, di lavoro, se avete un problema finanziario da risolvere. Partiamo subito dicendo che questo lavoro si fa al bisogno, Cioè non importa il giorno, non importa la luna, non importa l'orario. Quindi lo fate veramente al bisogno. Lavorando con Eshumirim, lo ripeto, poi lo scrivo anche così ve lo memorizzate. Come si prepara un'offerta piuttosto classica per Eshumirim? Eshumirim adora, diciamo così, mangiare, ma non è esattamente il mangiare che intendiamo noi esseri umani. È il tipo di offerta energetica. E Eshumirim, essendo anche un Eshu, come vi ho detto, adolescente, bimbo, bambino, adora molto i dolci. Quindi tutte le offerte che si fanno a Eshumirim in genere contengono del dolce. Eh? Possono contenere anche altre cose, logicamente. Però io vi mostro una tra le più semplici. Allora, voi vedete che ho messo qui sul mio piatto, un piatto normalissimo, ho messo questi dolcettini che non ho scartato per non sprecare, chiaramente, di cioccolata. Sono tipo, ora non voglio dire, fa la pubblicità, però si trovano dappertutto. In ogni supermercato, in ogni discount. Sono quei dolcettini ripieni al cocco a volte. Questi sono al cocco, per fare un esempio. Ma ci sono anche quelle noccioline dentro. Questi dolcettini che vendono anche a poco prezzo, eh? In sacchi, in sacchi di questo tipo, eh? La pubblicità non era voluta se si è vista. Comunque sia. Altra cosa è unire anche altri tipi di dolci. In questo caso, sempre economici, non importa spendere chissà cosa. In questo caso io ho preso dei marshmallow, che li trovate in qualsiasi supermercato, in qualsiasi discount, anche in buona quantità. E quindi, cosa ho fatto? Osservate il piatto. Ho messo sette dolcetti di cioccolato e cocco, oppure di cioccolato e caramello. Fate voi, cioccolato e noccioline, cioccolato e basta. E ho messo altri sette dolcetti di marshmallow, eh? Quelli americani, i marshmallow. Quindi ho fatto un'offerta guarnendo il mio piatto con questi dolcetti. Ripeto, devono essere scartati, eh? Quindi scartateli, buttate via le carte e metteteli tutti scartati dolci. Ovviamente, come se una persona fosse lì davanti a voi, in questo caso Shomerim, e voi gli offrite da mangiare questa roba così buona. Gliela scartate come minimo, non gli dite scartala da te, eh? Quindi, questo è solo per rendervi l'idea di ciò che dovete fare. Vi servirà una candela bianca, eh? Una candela bianca nuova. Io a volte faccio vedere una candela usata o che ho usato per altre cose, però è solo per farvi la dimostrazione. Questa candela bianca va nel centro del piatto e quindi non ce la mettiamo. Andiamo a scaldare come sempre la base. Fiammiferi o accendino non ha alcuna importanza. No, perché c'è la diatriba tra i fiammiferi e l'accendino. No, sinceramente alla fine fuoco e basta. Per quello che riguarda me, eh? Per ciò che ho imparato nella vita. Quindi voi fermate la candela nel piatto, eh? Fermate la candela nel piatto, la andate logicamente ad accendere, perché tutto questo che vedete, dolci e candela, è un regalo, è un'offerta. Peresciu mirim. Poi, presupponendo che voi stiate lavorando in un angolo della vostra casa indisturbato, se non potete lavorare in casa, potete anche farlo fuori questo lavoro. Quindi in un posto fuori della vostra casa, che può essere un angolo, può essere una rimessa, un garage, un muro, eh? Qualcosa di questo tipo. Può essere fatto in casa, può essere fatto anche fuori casa. Anzi, a volte è più efficace fuori casa. Poi la pratica, come sempre, rende sempre migliori. Andiamo quindi a preparare questa offerta di dolcetti ai shumirim. Lo andiamo a chiamare. Questa volta vorrei che voi impariate il saluto classico che si fa alle pombagira, alle shu, che è ripetiamo. Questo è il saluto in lingua yoruba, cioè una lingua africana. Convocate shumirim e andate a conversare con lui. E shumirim, ti faccio questa offerta ed elencate. Ti offro questi dolcetti di cioccolato e cocco. Ti offro questi marshmallow. Ti offro questa luce, questa candela bianca. Affinché tu, eshumirim, venga presto in mio soccorso. E qui voi dite di cosa avete bisogno. E shumirim, ho bisogno di pagare il tal conto, tal dettaglio. E shumirim, ho bisogno di trovare un impiego, un lavoro, qualsiasi cosa per guadagnare il più presto possibile. Questo è il senso. E shumirim, ho bisogno di un'entrata di denaro che mi serva per questo problema. Ecco, andate proprio a confidare a shumirim qual è l'urgenza vostra specifica. Parlate a lui con il cuore aperto. Parlate a shumirim con grande fede. Perché è molto prodigo, shumirim, di aiuto. È un'entità che adora aiutare le persone. È un'entità che lavora anche molto rapidamente. Una volta che voi avete pregato, diciamo così, avete fatto la vostra richiesta, ringraziate. Grazie shumirim, grazie shumirim, grazie shumirim. E lasciate consumare la candela tranquillamente finché non è finita. Lasciate tutti ovviamente i dolci dove sono. Quando la candela sarà consumata, quindi dipende quanto dura la vostra candela, si prende questa offerta e si va, la candela si va, i residui eventuali li buttate tranquillamente nella spazzatura comune. I dolcetti li andate a mettere, non esattamente nella spazzatura, li prendete questi dolcetti e li mettete sotto una pianta, sotto il classico albero, dentro un vaso di pianta, in una striscia di prato, di erba, di giardino, non li buttate nella spazzatura, li andate a mettere in un luogo naturale. Potete anche prendere questi dolcetti e metterli nell'angolo di un incrocio. Questa è un'altra variante che funziona perfettamente lo stesso. A questo punto il shumirim si metterà al lavoro per voi. Quindi non abbiate per favore ansia, non guardate l'orologio, anche se avete il problema, sappiate che l'entità sta lavorando per voi. Quindi se voi fate tutto con grande cuore puro, aperto, con grande fede, vedrete che il shumirim, in brevissimo tempo, vi dà una risposta o vi risolve proprio il problema. Quindi vi raccomando, questa entità, se non avete la statua, non importa, magari a chi piace può ordinarla in un negozio specializzato, può fare anche una stampa, con la stampante, metterla in una cornice. E shumirim vi potrà aiutare in tantissime cose nella vostra vita. E quindi non esitate a chiedere aiuto se siete nel bisogno. È un'entità molto, molto potente, molto poderosa. Un'altra cosa, questa è importante e vorrei che ve la ricordate per il buon esito. Quando voi avete fatto tutta l'offerta, dite sempre ai shumirim, e shumirim, se tu mi aiuterai, io, e dite il vostro nome, ti prometto che ti farò un'altra offerta come questa. Quindi, per farvi capire, quando shumirim si è fatto sentire, quando vi ha risolto il problema, e qualunque sia la richiesta, in questo caso una richiesta finanziaria, voi fate un ringraziamento, sempre mettendo un piatto di dolcetti, in questo caso io ho messo sette più sette, perché sette è un numero mistico nella macumba, nella chimbanda in particolare, e una candela. Quindi gli promettete che se lui vi aiuta, voi gli farete un'offerta uguale per ringraziarlo. è molto importante promettere a shumirim che voi vi ricordate del suo aiuto e gli fate un'offerta per ringraziarlo. E questa offerta potrà essere tranquillamente come questa qua, come quella che avete fatto in partenza. Quindi, dei dolci con una candela. Benissimo, carissimi e carissime, spero, come dico sempre, di essermi spiegata il meglio possibile. Vi ringrazio per il momento, vi ricordo che i consulti telefonici di cartomanzia sono attivi con una modalità di un'ora, di un'ora, di cartomanzia professionale, spirituale. Chi è interessato, interessata, può chiedere informazioni, così come è sempre attivo il servizio della ritualistica afro-brasiliana, quella personalizzata, quella, diciamo, di livello un pochino più complesso, superiore, personalizzata sul vostro problema. Per adesso, il consueto bacione, se lo accettate, grazie per i vostri like, grazie per il vostro sostegno, per le vostre iscrizioni, da Simonetta un grande saluto e al prossimo video.